Quindi nulla è deciso, iniziamo a capire che cos'è e poi decidiamo. Per capire che animale è, abbiamo scomodato uno dei più autorevoli geologi d'Italia, che è Bruno della Vedova, dico geologi per sintetizzare, però adesso lei mi spiegherà meglio. Al professore della Vedova chiedo, molto genericamente, ma poi lui entrerà nei dettagli e tramite le domande entreremo nei dettagli ancora di più, di spiegarci, in modo comprensibile ovviamente, che cos'è la geotermia. C'è molta confusione tra geotermia, teleriscaldamento, altre cose, insomma c'è un po' di confusione su questi temi. Perché, come viene utilizzata questa fonte di energia, nella fattispesse se sono collegati dei rischi sismici, dei rischi di inquinamento, insomma ci inquadri un po' il tema, le diamo un quarto d'ora, se riesce ad essere sintetico, poi avremo veramente tante domande. Ce ne sono tantissime che ne avranno modo di rispondere a tutte. Grazie. Bene, innanzitutto grazie al direttore per la lusinghiera presentazione, grazie al sindaco per avermi invitato e per avermi dato l'opportunità di affrontare una problematica che è di estremo interesse per tutti noi, energia e ambiente. Da qua in avanti energia e ambiente devono essere coniugati in maniera sostenibile. Sostenibile vuol dire che deve poter funzionare per le esigenze del riscaldamento, della produzione di corrente elettrica, ma deve essere in grado di inserirsi bene con il contesto senza provocare danni, rischi eccessivi, tipo la subsidenza, tipo rischi sismici. Entrerò in questi dettagli. Ringrazio anche l'Unione Geotermica Italiana di cui faccio parte e a nome della quale io vi presenterò questo contributo, che penso e spero sia utile la discussione, sia utile per chiarire il contesto di questa grande risorsa che c'è sotto Ferrara. In molte altre zone fredde, e vi dirò subito cosa vuol dire, della zona adriatica, ci sarebbero città e paesi che farebbero carte false per avere metà di quello che avete voi sotto i piedi. Bene, vediamo come si può utilizzare, vediamo che cos'è. Allora, per rispondere alla domanda secca e precisa, io mi sono permesso di preparare una quindicina di slide, di diapositive, per tentare di essere conciso, incisivo e tentare di dare delle risposte e chiarire dei termini che noi tutti usiamo. Quindi se il direttore mi concede, io mi sposto e vi illustro quello che ritengo essere le definizioni della geotermia che cos'è, quali sono i vantaggi, che cosa si fa, qual è il problema, se c'è, qui a Ferrara, dal punto di vista della risorsa. Io parlo della fonte rinnovabile geotermia. Va bene. Grazie. 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 Allora, ho intitolato questa breve presentazione La geotermia e i suoi molteplici utilizzi. non va avanti. Allora, sono qui per illustrarvi quelle che sono le problematiche della geotermia nella vostra zona. Noi come Unione Geotermica Italiana dobbiamo fare proprio questo, promuovere lo sviluppo e uso sostenibile della risorsa geotermica, non solo in Italia e anche fuori, diffondere la conoscenza e dare indicazioni, supporto ai progetti, promozione e anche, se è possibile, fare da trade union fra quelli che sono le realtà che vogliono lavorare e investire con la geotermia e quello che è il quadro normativo regolatorio degli incentivi tramite il Ministero. Per quanto riguarda la mia esperienza, volevo menzionare in particolare un qualche cosa che ho cercato di fare nella regione Friuli-Venezia-Giulia copiando Ferrara, in piccolo, perché noi non siamo così fortunati come voi. Voi avete più di 100 gradi a meno di 2 chilometri sotto Casaglia e anche nella nuova area i tecnici e l'Università di Ferrara che ci hanno lavorato hanno individuato lo stesso ordine di grandezza di temperatura per la risorsa geotermica. Bene, io ho tentato di fare lo stesso anche a grado. Abbiamo fatto un primo pozzo da 1.100 metri, abbiamo trovato 45-48 gradi, molta acqua. Entro quest'anno faremo il secondo pozzo e completeremo l'anello principale del teleriscaldamento. Saranno 5 milioni di euro finanziati dalla comunità europea e finanziati dalla regione Friuli-Venezia-Giulia e dal comune di Grado. Bene, lo stiamo facendo in piccolo per fare un teleriscaldamento copiando Ferrara. Da voi sono 22 anni. che la geotermia funziona senza alcuna problematica connessa. È difficile capire il perché non si voglia o non si possa. Secondo me è imperativo perché l'energia è una questione fondamentale, è una questione globale, non è solo italiana e europea. Bisogna risparmiare fossili, bisogna fare un mix di rinnovabili e di recupero di calore. Bene, il teleriscaldamento di Ferrara fa esattamente questo. Che cos'è la geotermia? Molto semplice. La geotermia è il calore della terra. La terra è calda e quando sbuffa ce ne accorgiamo. E l'Italia ha un lato tirrenico caldo e un lato adriatico più freddo. Ferrara sta a metà strada. Sta a metà strada. Quindi geotermia per noi vuol dire lo studio e l'utilizzazione della risorsa. Il calore della terra è un'energia primaria, non è trasformata, è calore e soprattutto per gli utilizzi a bassa temperatura sì che si può utilizzare con progetti razionali e sostenibili. Sostenibili vuol dire che devono durare inquadrandosi e inserendosi bene con il rispetto dell'ambiente e della salute umana. Bene, finora Ferrara ha fatto questo. La geotermia di Ferrara è calore della terra senza rischi associati. A livello europeo, nei congressi, Ferrara viene presentato come un caso di eccellenza e a livello italiano è uno dei progetti, è il progetto più importante. In tutti i paesi del mondo la geotermia è in crescita ed è in crescita anche in Italia perché l'Unione Europea spinge affinché le rinnovabili abbiano un peso molto più grande di quello che ha adesso per coprire il fabbisogno di calore dei paesi europei. Voi sapete che quasi il 50% dell'energia consumata in Europa è utilizzata per produrre calore, calore civile, domestico, anche industriale. In Italia il 45%. Bene, perché non usiamo il calore naturale della terra per riscaldare? L'idea è molto semplice. Invece che produrre il calore utilizzando una sorgente fossile che ha tutta una serie di problemi correlati, non ultimo il problema dell'importazione e del suo costo. Allora i vantaggi della risorsa geotermia che è una sorgente rinnovabile di cui si parla poco anche quando tutti ce l'abbiamo sotto i piedi. Il calore non è come il petrolio che una volta che è finito non ce n'è più. Il calore è una questione di profondità. 300 gradi si trovano anche sotto l'Antartide, sotto l'Alaska. Bisogna vedere a che profondità. Quindi chiamiamo una risorsa utilizzabile, quindi una vera riserva mineraria, il calore che si trova a profondità economicamente interessanti e tecnologicamente raggiungibile. Questo è quello che rappresenta le condizioni favorevoli della geotermia. Ferrara è una condizione favorevole. Come il solare e l'eolico la geotermia è rinnovabile perché si rinnova, il calore che perde la terra arriva verso la superficie, molto diffuso, molto disperso, ma ci sono alcune condizioni estremamente favorevoli, l'arderello, i geyser, la Nuova Zelanda. E' pulita se facciamo progetti sostenibili, perché dove escono dei gas naturali misti potrebbe essere compatibilmente, magari anche non totalmente compatibile con la salute. Bene, da adesso in avanti l'idea è reiniettare tutti i gas non condensabili, potenzialmente di un qualche impatto. In questa maniera la geotermia sarà pulita. La geotermia di Ferrara non emette nulla, perché è una geotermia a bassa temperatura. Vediamo subito. Non richiede combustione, non genera CO2, ma ha una cosa in più rispetto a quanto non abbia il solare e l'eolico. Il solare fotovoltaico è intermittente, l'eolico è intermittente. Che cosa vuol dire? Che se c'è vento e c'è sole hai energia e luce. Quando è notte o non c'è vento non c'è energia. Non puoi fare un progetto basato su una fonte intermittente, a meno che tu non abbia una garanzia, e dei sistemi di stoccaggio dell'energia. La geotermia è continua e costante, è completamente adatta a rappresentare una fonte per fornire lo zoccolo duro del carico termico, per fornire la sorgente che è sempre disponibile. Dicevo, si può produrre corrente dove la risorsa ha temperature molto elevate. L'arderello per definizione nel 1904 ha acceso il conte Piero Ginori le prime cinque lampadine usando il vapore geotermico. Quello è stato l'inizio dell'era industriale, tra virgolette, della produzione geotermoelettrica. Produzione di corrente mediante fluidi caldi sotterranei. Per fare questo è necessario di impianti adeguati, un uso del territorio e di terreno normalmente più esteso, impianti più grandi. L'utilizzo della geotermia superficiale. Voi sapete che ci sono le sonde geotermiche a circuito chiuso per condizionare, riscaldare d'inverno, raffrescare d'estate la singola casetta. Una sonda a circuito chiuso da 100 metri. Ce n'è tantissime che stanno ormai venendo utilizzate e inserite nel sottosuolo in giro per l'Italia. Questo tipo di sonde usano il calore geotermico. E lo usano sia per riscaldare, con il sostegno di una pompa di calore, sia per raffrescare. Quindi usando la geotermia si produce caldo d'inverno e fresco d'estate. Ovvero sia d'inverno si ruba calore al sottosuolo per metterlo nelle abitazioni, raffreddando un poco la sorgente, durante l'estate si fa il contrario. Si prende il calore delle case e si mette nel sottosuolo. Se è progettato bene, la temperatura resta costante, perché quello che prendi durante l'inverno corrisponde circa a quello che rimetti durante l'estate. Quindi, in teoria, è sostenibile per sempre. Non è vero poi nella pratica, perché c'è tutto un problema di materiali, di durata, di pompe, eccetera, ma nella realtà dura decenni. Per fare questo, e anche il teleriscaldamento, è un utilizzo di una sorgente geotermica a temperatura bassa o intermedia. La normativa dice che 90 gradi è il limite fra la sorgente a bassa e a media temperatura. Beh, Ferrara ha un centinaio di gradi, mi pare, e quindi siamo appena sopra il limite del tetto di temperatura per le sorgenti a bassa temperatura. Per fare questo tipo di utilizzo, normalmente gli impianti sono più piccoli. Hanno però bisogno, contrariamente all'arderello, di avere vicino la sorgente e l'utente, perché purtroppo l'acqua per strada si raffredda. Quindi non possiamo fare condotte estremamente lunghe, e di conseguenza la sorgente e l'utente è bene che stiano vicino. È un problema tecnico ed economico. Questo riassume quello che vi ho detto. Per temperature superiori a 150 gradi, temperature, dei fluidi sotterranei che provengono da aree geotermicamente interessanti come la Toscana, i campi Flegrei, l'area del Lazio, o anche alcune zone sulla piattaforma continentale. Dopo vi farò vedere un progetto italiano nel mare Tirreno, di studio. Per le temperature intermedie c'è il teleriscaldamento, per le temperature più basse e anche le profondità più superficiali, ecco che l'utilizzo della risorsa è anche per abitazioni civili, condomini, centri commerciali, ospedali, scuole e così via. Recentemente noi in Friuli, il palaghiaccio di Pontebba, provincia di Udine, abbiamo progettato e realizzato un impianto che produce il ghiaccio e rubando calore all'acqua potabile, all'acqua dolce per produrre ghiaccio, il calore sottratto si usa per riscaldare. Il frigorifero in casa fa questo, ruba il calore al cibo da dentro e lo trasmette nello scambiatore che c'è dietro il frigorifero e scalda da fuori perché sposta il calore invece di produrlo e spostare il calore con una pompa di calore costa meno che generarlo tramite l'utilizzo di una fonte energetica fossile. Gli Stati Uniti sono il paese che produce più corrente elettrica da produzione geotermoelettrica. Noi eravamo primi fino a una quindicina d'anni fa e siamo passati in quinta colonna e presto la Turchia ci è addosso, Stati Uniti, Filippine, Indonesia, Messico. In Italia si producono 843 megawatt di potenza lorda da 35 unità che sono turbine di vario tipo prevalentemente nella Toscana. Quale paese riesce a produrre più energia elettrica dalla geotermia? Noi siamo molto indietro. L'Islanda ovviamente sta sulla dorsale medioatlantica e ha una produzione. L'Islanda produce quasi il 100% del calore utilizzato dall'Islanda e da tutti i suoi cittadini, delle sue abitazioni, dalla geotermia. Dal punto di vista elettrico invece per il momento produce circa il 50%. Un altro 25-30% lo produce con l'idroelettrico che è quindi rinnovabile e solo una piccola parte con il petrolio. Ma ha molti progetti nel cassetto e alcuni sono già in realizzazione che prevede che nei prossimi 5-10 anni l'Islanda arriverà a ridosso del 90%. Noi dove siamo? 1,5%. Ampi margini di miglioramento, direbbero in maniera eufemistica alcuni esperti. Per quanto riguarda le prospettive future della geotermia come risorsa rinnovabile per produzione di corrente e calore, mi piace ricordarvi e richiamare alla vostra attenzione uno studio di 5-6 anni fa, del 2006, quindi 7 attualmente, fatto all'MIT di Boston da un gruppo molto qualificato di scienziati che dice che ci sono le tecnologie, ci sono le risorse, è un problema di investimento. Quindi è un problema di scelta, di strategia e di politica industriale e di politica nazionale. Quella di investire. Loro hanno fatto i conti, anche economici, che nei prossimi 50 anni potrebbero produrre energia pari a 2.000 volte il fabbisogno degli Stati Uniti nel 2005. Ovviamente questo è sulla carta. Nella realtà non succederà. Per tutta una serie di problematiche economiche, di mercato, dell'energia, di scelte politiche, ma lo studio serve a questo, a stimolare le teste, le imprese, le politiche e l'utenza. Se questo fosse vero, significherebbe sostituire completamente l'utilizzo dei fossili. E il fabbisogno di energia elettrica del futuro. Questa è un'ipotesi. Io mi auguro che le compagnie petrolifere, che hanno il know-how tecnico, finanziario, hanno la rete di distribuzione, presto si accingano e alcune di esse già si stanno muovendo verso la risorsa geotermia. Per il momento è un grosso problema il costo della perforazione, che è ancora troppo elevato. In Europa ho messo alcune freccette su diversi paesi, non sono tutte. Ho citato alcuni esempi e alcuni progetti attualmente in corso. Il secondo che vedete, un progetto che è costato 60 milioni all'Unione Europea, è il progetto di Sulz, per produrre corrente elettrica dalle rocce calde secche, mediante stimolazione. Questo ha prodotto tutta una serie di ricadute. Abbiamo imparato moltissimo e abbiamo anche prodotto, a seguito dell'iniezione a alta pressione e della fratturazione, anche delle piccole rilasci di energia sismica. E questo dice che bisogna stare molto attenti quando si inietta pressione. A Ferrara questo non si fa. C'è un progetto in Islanda, l'Islandic Deep Drilling Project, che è il progetto di perforazione profonda, che a un paio di chilometri ha trovato 1050 gradi, praticamente lava fusa. A Napoli, quello che si chiama CFDDP, che vuol dire Campi Flegrei Deep Drilling, un buco profondo, un 4000 metri, è finanziato e il primo pozzo è già stato perforato di 500 metri, un pozzo pilota. L'aeroporto di Zurigo è riscaldato con la geotermia, le piste non gelano, gli scambi in alcune stazioni ferroviarie dei paesi del nord Europa non congelano, sono condizionati con l'acqua geotermica, spendendo molto poco. c'è Ferrara, mi piace ricordare Al Time, che è un impianto binario, ovvero si usa una macchina di tecnologia italiana per produrre corrente e calore, produce un megawatt elettrico e 10 megawatt termici, per riscaldare la cittadina, e quindi ha corrente e calore, ha dei pozzi a 2300 metri. In Italia la Toscana, storicamente è stata la prima, e produce la quasi totalità dell'energia elettrica nazionale, 882 megawatt elettrici e la potenza, 5.6 terawattora anno e l'energia, sono dati Enel, corrisponde all'1,5% della produzione elettrica nazionale, e corrisponderebbe al 25% del consumo elettrico della Toscana. Il mercato della geotermia si muove, questa è un'immagine già superata, che ho fatto un anno fa, quando c'erano al tempo 100 nuove richieste di permessi di ricerca, quelli in rosso, a seguito della liberalizzazione del mercato e della risorsa geotermica profonda, per produzione di corrente elettrica, e in parte calore per i cicli binari. I cerchi rossi mostrano le aree dove ci sono permessi di ricerca, richiesti e da diverse parti concessi, per perforazioni profonde, a scopo utilizzo della risorsa geotermica. Le temperature sono diverse da zona a zona, ce n'è 9 in Trentino Alto Adige, Bolzano, la provincia di Bolzano, ne ha 9, 2 in Lombardia, e poi vedete gli altri numeri. Gli impianti sperimentali, che sono 10, quelli permessi, sono già stati tutti saturati e richiesti, fra i quali c'è questo in rosso, col numero 1 qui, è un progetto offshore a mare, sul vulcano Marsili, è un progetto di esplorazione. Mi auspicherei che avesse un ritorno energetico-economico, anche se i tempi saranno estremamente lunghi. Notate sotto alcune prospettive, che questi 120 permessi potranno dare, qualche centinaio di megawatt elettrici di potenza si potrà ricavare, se andranno a regime. Gli investimenti che servono, 5-6 milioni di euro per megawatt di potenza geotermica elettrica prodotta. Usi diretti? Gli usi diretti sono quelli che usano il calore tal quale, senza trasformarlo in corrente. E quindi i teleriscaldamenti, che sono questa fetta rossa in basso, rappresentano alla stima 2010 il 27% degli usi diretti in Italia. Quindi una grande fetta. Quella gialla rappresenta tutte le utilizzazioni di tipo termale, il distretto uganeo-berico, che è qui, non molto lontano. E a Ferrara è il principale sito geotermico a bassa temperatura in Italia. È fondato su una risorsa di cento e qualche grado, entro i primi due chilometri, in una struttura di calcari, molto favorevole, che risale e che naturalmente circola un fluido caldo. Naturalmente. Non è stato fratturato da Leni o da nessun altro. Hanno fatto le perforazioni per cercare idrocarburo. Hanno trovato acqua calda. Usiamola. È sotto. L'impianto attualmente, quello di Casaglia, con due pozzi di estrazione e uno di reiniezione, è in servizio da 22 anni. Non ha creato problemi. Questo è un utilizzo virtuoso della risorsa geotermica, che poi l'impianto integri anche altre fonti rinnovabili, va benissimo, integri anche altre fonti con motori a metano, va bene, perché i progetti servono per garantire la produzione del calore necessario a soddisfare la domanda in tutte le condizioni e in tutti gli inverni. Il sistema è a circuito chiuso, preleva l'acqua calda, che peraltro è salata, da un pozzo, la fa passare in uno scambiatore, cede il calore a un altro circuito dove dall'altra parte c'è l'acqua dolce e poi viene reiniettato nel sistema naturale. Questo cosa garantisce? Garantisce che la massa viene rimessa da dove era presa, non si impoverisce la riserva. La pressione varia solo localmente, ma in media la pressione rimane la stessa. L'unica cosa che si cava è una parte di calore. quello che non si riesce a scambiare viene rimesso sotto, la prenderemo al prossimo giro. Questo garantisce la sostenibilità idraulica e termica del sistema per lungo tempo. 22 anni è un lungo tempo. Speriamo che duri ben più di altrettanto, senza alcuna contaminazione. Allora, per chiudere, i vantaggi. È una risorsa naturale, continua è costante, non cambia con la stagione, è lì. Si scambia il calore senza combustione, è un impianto sicuro. La sicurezza è un aspetto fondamentale di questa risorsa. Dimensioni limitate, impatti minimi, l'acqua è restituita, senza sprechi e contaminazioni, ma soprattutto si usa una sorgente primaria che è disponibile e che permette di produrre calore a costi economici competitivi. E questo è un aspetto che sicuramente sarà di interesse e qualcun altro lo vorrà approfondire e toccare. qual è il grosso svantaggio per cui della geotermia si sono occupati in pochi e perché non si va avanti più di corsa? Come sempre il calzolaio va in giro con le scarpe rotte. I paesi che si muovono di più sono quelli che hanno meno risorse. la Germania fa buchi da 5.000 metri vuole produrre corrente e a 3-4 km hanno le temperature che all'arderello stanno a 1 km di profondità. Loro vanno giù 4-5 km e lo fanno perché è una scelta è una politica energetica che il paese ha scelto di sostenere le rinnovabili. il perché finora non è partito è perché i progetti si possono fare per i pozzi per le reti di distribuzione per gli scambiatori per i terminali all'utenza ma non si può progettare la risorsa geotermica perché quella è quella che c'è e c'è in un posto a una certa profondità e non c'è in un altro bisogna spendere per ridurre il rischio di non trovare quello che si cerca questo si chiama investimento per la caratterizzazione della risorsa penso che una parte di questo studio è stato fatto ma non è finito perché per sapere se la cosa funzionerà bisognerà fare un buco e non si parte col secondo si comincia col primo e il primo buco è quello che ha il maggiore rischio perché si potrebbe non trovare quello che si cerca che cosa non troviamo? mica la temperatura la temperatura è una questione 100 metri più 200 meno quella la trovi il problema è la permeabilità del sistema che permette all'acqua di circolare la quale acqua circolando prende il calore dalle zone calde e lo porta a noi che ci serve in superficie se l'acqua non circola il calore non si estrae questo è il rischio minerario che richiede investimenti più elevati ed è per questo che stenta a partire oltre al fatto del problema normativo ma su questo io non entrerei vi ringrazio e vi segnalo che l'Italia nonostante siamo passati al quinto posto stiamo tentando di recuperare con i 120 permessi che avete visto l'unione geotermica dà il supporto a tutte queste imprese affinché dal ministero abbia le risposte e tentativamente gli incentivi e il sostegno necessario ma fa anche dei congressi internazionali e c'è questo di Pisa European Geothermal Congress 2013 a cui noi come unione geotermica italiana diamo il supporto e l'organizzazione locale vi ringrazio e vorrei che ci fosse dibattito e discussione grazie grazie professore D'Avedova asfora